Abbiamo visto che è stata capace di smarcarsi nella Costituzione della sua giunta dei gruppi dell'estrema sinistra che hanno fortemente protestato successivamente. E se sarà altrettanto capace di accogliere o smussare alcuni punti della sua relazione programmatica e accogliere alcuni punti che noi proporremo in consiglio, potremmo anche valutare una posizione di estensione sulle linee programmatiche. Claudio Grizzon, capogruppo del PDL in provincia, si rivolge alla rieletta presidente Bassaporopat senza mezzi termini. Vogliamo lavorare per il territorio, soprattutto per i comuni minori a partire da Duina Urisina e Muggia. Nella lista degli impegni primeggia l'edilizia scolastica seguita dall'ambiente. Va risolto, dice, il problema degli odori dei serbatoi Siot a Sandor Ligo della Valle. Poi la viabilità con interventi sulla provinciale di Lazzaretto e sulle strade di Chiampore e Muggia Vecchia in pessime condizioni. A spalleggiare Grizzon il suo vice Massimo Romita, soddisfatto per l'inserimento in statuto della conferenza dei sindaci, dopo cinque anni che l'opposizione la richiedeva. A parlare anche Giorgio Rett, sindaco di Duina Urisina, sconfitto al ballottaggio proprio della presidente Bassaporopat e che in consiglio provinciale rappresenterà la lista Giorgio Rett PDL. Va affrontato, ha detto, il tema del futuro partendo dalla necessità di ricompattare il centro-destra. Infine un cenno alla TAV, non spetta a me dire sì o no, ma il progetto preliminare deve essere fatto bene nel rispetto dell'ambiente. L'insediamento del nuovo consiglio avverrà il 20 giugno prossimo, mentre per la relazione programmatica bisognerà attendere il giorno 23.